Come è la privacy? La maggior parte di noi non avrebbero mai immaginato. L'autorità garante che per raccogliere le sfide che si sono presentate e che si stanno presentando a causa anche di un continuo mutamento di scenari sta facendo a sua volta dei cambiamenti per poter affrontare quelle che sono le problematiche della privacy oggi e anche in vista del futuro. Abbiamo l'onore oggi di avere con noi dall'autorità garante per la protezione dei dati personali il vicepresidente, la dottoressa Augusta Giannini, siamo veramente onorati di avere una presenza così importante al nostro convegno. E vorremmo proprio sentire dalla dottoressa Giannini cosa sta facendo il garante e come si è evoluta l'autorità per la protezione dei dati personali per accogliere le sfide della data protection di oggi e anche in vista del prossimo futuro. Ascoltiamo dottoressa, grazie. Grazie per avermi invitato. Sto litigando col microfono perché vediamo se riesco a portarlo a portata di voce. Innanzitutto complimenti per questo privacy day perché non ho potuto sentire tutte le relazioni ma sicuramente quelle che ho sentito avevano il pregio di essere molto concrete e quindi di dare un grosso ausilio agli operatori perché certamente io ho una formazione diciamo giuridica, ho forse un approccio più astratto e quindi oggi mi ha fatto piacere potermi confrontare proprio con quelle che sono le problematiche anche tecnologiche che bisogna affrontare. Naturalmente la mia relazione forse risentirà della mia formazione e quindi vorrei proporvi un paio di temi che riguardano degli aspetti il primo probabilmente non praticato da voi che siete degli operatori essenzialmente del settore privato ma che evidenzia anche la contraddittorietà di un legislatore che da un lato impone delle norme molto restrittive e dall'altro invece fa per esempio della trasparenza un argomento così forte da mettere in discussione la tutela del dato personale e questo è un aspetto. Poi ci sono gli altri aspetti che sono più intriganti e che sono quelli che derivano dall'utilizzo del web 2.0 e da tutte queste enorme potenzialità che sta venendo fuori. Allora certamente in questi 16 anni di attività nel campo della tutela della riservatezza molto è stato fatto. Già l'emanazione del codice della privacy nel 2003 ha fornito agli operatori uno strumento a mio giudizio valido per affrontare il tema della tutela delle libertà fondamentali e riconosciute al singolo individuo assegnando alla riservatezza il suo originario rango di un bene giuridico autonomo e come tale degno di tutela adeguata anche preventiva da parte dell'ordinamento. È un'evoluzione legata al diffondersi in modo direi anche allarmante delle aggressioni alla sfera personale anche ad opera delle nuove tecnologie che hanno reso ormai immediato e alla portata di tutti l'accesso a dati che prima erano riservati alla conoscibilità di pochi addetti al settore. Per esempio pensiamo alla diretta cattura audio-video di ogni tipo di eventi e alla loro conseguente messa a disposizione della collettività tramite la rete internet. Oggi è effettuabile da chiunque tramite un telefono cellulare mandare su youtube un filmato che si è girato. E quindi mai come in questo momento l'evoluzione tecnologica ha mostrato la sua natura di un'arma a doppio taglio. Da un lato ha consentito progressi sociali e raggiungimento di risultati fino a pochi anni addietro neanche ipotizzabili, ma dall'altro ha reso molto più facile la perpetrazione di abusi ai danni degli utenti di questi nuovi sistemi evoluti. Pensiamo per esempio ai fenomeni dell'invio di email o di link mediante i quali si catturano le password oppure i codici necessari per l'accesso abusivo ai servizi di home banking e altro, ai furti di identità o più semplicemente alle infinite potenzialità espansive che caratterizzano una diffamazione o una calunnia postata su un blog o su un forum internet. Una circostanza quest'ultima di cui abbiamo avuto un esempio proprio ai danni del presidente della Camera, Laura Boltrini, e non solo. E allora qual è stato di fronte a questi fenomeni innanzitutto l'atteggiamento del legislatore, perché noi cosa facciamo? Interpretiamo delle norme, voi come operatori, noi come autorità. E il legislatore ha inseguito questi problemi, da un lato mostrando di tenere in seria considerazione la tutela della privacy con l'introduzione di un codice organico che ha disciplinato singoli settori o specifiche situazioni a rischio. Pensate per esempio all'istituzione del contestato registro delle opposizioni per le chiamate commerciali indesiderate oppure la disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telefonico. e dall'altro però ha perseguito per esempio l'obiettivo di una conoscibilità senza limiti delle attività della pubblica amministrazione, forse non ponderandone del tutto adeguatamente le ricadute pratiche ed impegnando così il garante nell'elaborazione di un parere al decreto legislativo definito come trasparenza che cercasse di ricondurre ad un rapporto corretto pubblica amministrazione e cittadini non potendo prescindere da un elevato grado di trasparenza delle attività svolte dai soggetti incaricati di questi processi decisionali ma tenendo anche conto che anche loro hanno diritto ad una forma di privacy perché da un lato il legislatore fissa il principio di un'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni perché vuole favorire delle forme diffuse di controllo e quindi prevedono forme di pubblicazione obbligatoria online di tutta una serie di dati della pubblica amministrazione e poi una pubblicazione facoltativa online attraverso un'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti correlata a questa definizione poi prevedono anche il diritto di ciascuno alla conoscibilità cioè il diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione e anche su questo tema il garante è intervenuto in un'ottica di ragionevolezza però le sue opinioni o meglio le sue osservazioni essendo un parere non vincolante sono rimaste inascoltate mi riferisco principalmente alle modalità di riutilizzo dei dati pubblicati sul web e alla durata della pubblicazione online di questi dati voi sapete che la materia del riutilizzo dei documenti nel settore pubblico ha conosciuto un intervento non solo della normativa nazionale ma di quella internazionale e anche del gruppo del garante europeo della protezione dei dati che ha raccomandato come e in che modo salvaguardare le informazioni contenenti dati personali che vengono messe a disposizione per il riutilizzo in questo decreto trasparenza che è stato così pubblicizzato dai media non c'è alcuna menzione di questi aspetti ed anzi siccome tutti i dati possono essere indicizzati e resi leggibili dai comuni motori di ricerca la diffusione di questi dati si amplifica a dismisura per cui di fatto possiamo sostenere senza tema di essere smentiti che innanzitutto affluirà una mole di dati immensa nella rete in attuazione di questo provvedimento che probabilmente renderà addirittura meno agevole e tempestiva l'individuazione del dato che si vuole cercare perché è evidente la differenza tra un motore di ricerca che restituisce 100 risultati e uno che ne restituisce un milione diventa tutto molto più complicato ma di fatto la diffusione incontrollata di dati nel web renderebbe non più esercitabile quello che la normativa europea e il regolamento che dovrebbe essere approvato ci auspichiamo presto ne fa un punto molto importante quello che è il diritto all'oblio per cui questo diritto all'oblio in realtà rischia di tradursi in una formula vuota per la difficoltà o meglio direi per l'impossibilità di realizzare la definitiva cancellazione dei dati pubblicati in internet perché internet di fatto possiamo definirlo come un oceano della memoria e quindi appare legittimo chiedersi se sia effettivamente realizzabile la cancellazione di un dato e in che termini vi ho parlato di questo perché benché voi come pubblico abbiate altro tipo di interessi volevo comunicarvi le problematiche che affronta il garante nella gestione della sua attività questa è stata una problematica affrontata nei mesi scorsi in cui il legislatore ha fatto qualcosa di un po' diverso rispetto a quella che è la nostra attività cioè ha messo di fronte al garante il tema della diffusività massiccia di una serie di dati benché ispirata a scopi nobili ma una diffusività massiccia e il garante si è trovato a dover assumere forse qualche posizione di retroguardia rispetto al fiume che corre della trasparenza assoluta dei dati relativi alla pubblica amministrazione ma ci sono altri aspetti perché le posizioni che il garante dovrà assumere anche nel prossimo futuro saranno sicuramente delle posizioni che potranno scontentare così come avviene in un processo come avviene in un giudizio una delle due parti in gioco e questo rischio viene fuori proprio se noi riflettiamo sulle potenzialità che aggiungono per esempio dal web punto 2 il web nella sua forma originaria era una specie di baccheca sulla quale alcuni i privati, le imprese la pubblica amministrazione inserivano delle informazioni e altri, gli utenti, i cittadini usufruivano di queste informazioni ma oggi il web non è più questo è molto di più è scambio di informazioni è partecipazione ed è interattività quindi si è evoluto alla versione superiore appunto quella che con termine informatico si dice 2.0 e questa vita nuova del web prevede che le informazioni le attività siano bidirezionali l'utente può comunicare con chi ha in gestione un certo sito internet può presentare le proprie richieste le proprie istanze può commentare l'attività e l'operato dei suoi amministratori o degli altri utenti fino ad arrivare in un domani che mi sembra molto vicino a mettere online addirittura la propria vita privata indossando per esempio i nuovi Google Glass e riversando le immagini catturate direttamente sul web i problemi che questo tipo di nuove tecnologie comportano sono sostanzialmente due il primo è legato alla presenza online di un enorme serbatoio di dati personali a volte anche sensibili utilizzabili con la consapevolezza o meno del soggetto che li ha conferiti per un'attività di profilazione senza precedenti da parte di attività commerciali di multinazionali ma anche di soggetti politici è infatti ovvio che se posso individuare per esempio attraverso i commenti che vengono postati su un blog o mediante l'iscrizione a un certo tipo di sito l'orientamento politico o più semplicemente le preferenze di acquisto di un determinato gruppo di soggetti posso anche effettuare delle campagne promozionali o politiche mirate moltiplicando esponenzialmente le possibilità di successo di queste campagne è recentissima la notizia della partnership stretta da facebook per ora soltanto negli Stati Uniti con quattro colossi del cosiddetto data marketing sono società che a vari livelli tracciano le tendenze e gli acquisti dei consumatori su scala ovviamente aggregata e non individuale anche se solo loro sanno quanto sia possibile poi risalire al singolo acquirente con modalità sia online ma questa invece è la novità anche in modalità offline e il risultato potrebbe essere che spulciando tra le chiacchiere le foto degli amici che ho postato su facebook sarà possibile leggere annunci pubblicitari che consigliano l'acquisto non so della confezione convenienza degli stessi biscotti che ho acquistato pochi giorni prima al supermercato sotto casa pagandoli con il bancomat o la carta di credito ed eccolo qua che sono stata profilata gli enti giusti al momento giusto nel posto giusto insomma grazie a un mix prima impossibile da amalgamare di informazioni tracciate sia fuori dalla rete che online storicizzate e legate al proprio passato di consumatore poi raffinate dai tradizionali parametri demografici da sempre in uso agli inserzionisti con tutti i rischi che ne possono derivare per la privacy per quanto da facebook hanno precisato che gli inserzionisti conoscono solo la grandezza del loro pubblico e non possono accedere ad alcune informazioni individuali inclusa in una delle categorie sarà così? chissà è facile cogliere allora l'importanza anche economica che questo tipo di attività può rivestire nell'attuale contesto sociale nonché l'interesse che questa nuova frontiera ha suscitato nei garanti europei e in quello italiano in particolare tra il marzo e l'ottobre del 2012 il gruppo che riunisce le autorità della privacy dei 27 paesi membri dell'Unione Europea ha infatti analizzato la privacy policy di Google per stabilire se fosse in linea con i requisiti fissati nella direttiva europea sulla protezione dei dati le nuove regole privacy adottate da Google consentono tra l'altro alla società californiana di incrociare in via generalizzata i dati degli utenti che utilizzano i servizi offerti da Google quindi Gmail YouTube Google Maps e così via successivamente poi a quest'analisi è stata condotta un'azione congiunta da una task force appositamente costituita composta dalle autorità per la protezione dei dati di Francia Italia Germania Regno Unito Paesi Bassi e Spagna un primo esempio di collaborazione tra autorità e ciascuna di queste sei autorità coinvolte condurrà ulteriori accertamenti in materia con il formale avvio di procedimenti distinti anche se simultani ma comunque in coordinamento tra loro un altro aspetto derivato dallo sviluppo delle tecnologie moderne è quello del coinvolgimento più o meno inconsapevole da parte dell'autore nelle attività online comunemente diffuse e in quelle ulteriori che si stanno ancora oggi affermando di soggetti che non hanno prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali o che non ne sono addirittura a conoscenza si pensi per esempio al caso di un amico perso di vista da decenni che posta su facebook le foto di infanzia della propria scuola o di quello che posta le foto dell'ultima vacanza con gli amici inevitabilmente che cosa fa questo signore diffonde dei dati personali relativi a soggetti diversi rispetto a quello che ha materialmente compiuto un'azione che pur essendo considerata normale di uso quotidiano però si può rivelare poco gradita da parte di qualcun altro degli interessanti e anche nel caso che ho citato prima dei google glass i rischi per la privacy sono evidenti gli occhiali che riprendono ed eventualmente trasferiscono online ciò che ci circonda semplicemente indossandoli offre informazioni infinite alla rete è vero che non sono in commercio però se ne trovano già in giro circa 2000 esemplari altre 8000 saranno presto in vendita a sviluppatori e curiosi e poi se ne prevede una amplissima diffusione a livello mondiale e credo che questo sarà uno dei temi prossimi venturi che il garante dovrà affrontare allora quali sono le prospettive e come dovrà porsi l'autorità rispetto a queste nuove sfide certamente per pochi esempi che vi ho fatto il lavoro al garante non mancherà nei prossimi anni non ho sorvolo sul tema delle banche dati perché è uno dei temi più incisivi dei prossimi anni abbiamo adottato dei provvedimenti anche in materia della banca dati di Equitalia recentemente quindi avete un'idea della difficoltà anche di seguire lo sviluppo delle tecnologie e sono cambiate certamente le esigenze le sensibilità del contesto sociale nel quale noi ci troviamo ad operare ovviamente siamo pronti a raccogliere nuove sfide ad affrontarle con una mentalità libera scevra da pregiudizi ideologici una mentalità che però ci consenta sempre di ottenere il massimo risultato per la tutela della riservatezza senza ovviamente compromettere quel continuo processo evolutivo che caratterizza il genere umano e che è quello delle nuove sfide tecnologiche e quindi come dobbiamo immaginare l'autorità come può l'autorità essere più vicina alle aziende ai consumatori in modo tale da apparire più amica di quanto magari non sia apparsa nel passato e allora io credo che dobbiamo forse perdere un poco di autoreferenzialità dobbiamo ricorrere ad un linguaggio semplice dobbiamo attraverso i provvedimenti generali dare delle indicazioni di certezza perché io credo che la nuova sfida di queste tecnologie deve accompagnarsi da una prospettazione dell'autorità che si pone al servizio dei consumatori al servizio delle aziende e i modi per porsi al servizio degli operatori non è che uno soltanto dare certezza e per dare certezza devono cambiare le modalità del linguaggio che devono essere modalità dirette nette in modo da consentire agli operatori di non passare troppo tempo ad interpretare i provvedimenti interpretativi dell'autorità garante grazie grazie dottoressa Iannini grazie 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 grazie